Guido Guidesi, perché dite che il nuovo provvedimento sulla giustizia del governo Renzi è un salvaladri? Perché è un provvedimento da psicosi, praticamente questo provvedimento che è un decreto approvato dal governo dice che per i reati commessi che avevano una pena fino a 5 anni potrebbe esserci l'impunità. Questo vuol dire che tutti i furti che ci sono nelle abitazioni private negli ultimi anni e negli aziende degli ultimi anni potrebbero essere assolutamente impuniti. Ciò vuol dire che un ladro oggi è assolutamente nella legalità secondo il governo di Matteo Renzi. Dopo 5 svuota carceri, dopo la depenalizzazione del reato di spaccio con questo nuovo provvedimento l'illegalità regna in questo paese e regna grazie al Partito Democratico. Non dimentichiamoci che in questo paese grazie a Matteo Renzi e al Partito Democratico vengono tassate e vessate le persone oneste, lasciati per strada i disoccupati e i pensionati ma per i delinquenti e gli immigrati c'è sempre qualcosa, c'è sempre qualche euro e ci sono solo ed esclusivamente diritti e mai nessun dovere. Questo provvedimento rasenta veramente la psicosi e la ciliegina sulla torta di un paese che noi non vogliamo.